buonasera a tutti benvenuti a questo webinar primi passi nei certificates prima di iniziare vi chiedo un riscontro audio video quindi vi chiedo se sentite correttamente la mia voce e se vedete in modo nitido lo schermo che sto proiettando nel mentre aspetto le vostre risposte tu Francesca mi senti dovresti essere collegata dovresti sì sì io ti sento Gabriele buongiorno a tutti benvenuti al webinar perfetto benissimo allora possiamo partire perché il tempo è sempre tirano allora io sono Bellelli Gabriele sono un educatore finanziario indipendente un trader un investitore e gestisco il sito bellelli.biz qui con me c'è Francesca Fossatelli di Fontobel con cui oggi parleremo di certificati la scaletta vedete della giornata della giornata in realtà di questa retta che passeremo insieme è particolarmente lunga perché partiremo dalle basi da che cosa sono i certificates e da quali sono le principali caratteristiche delle varie tipologie poi andremo a focalizzarci su che cosa sono i bonus i bonus cap vedremo tutto il processo di selezione dei certificati di composizione del portafoglio e di come ragionare in termini di strategia operativa quindi tanta carne al fuoco e quindi direi di partire immediatamente perché il tempo è sempre tirano allora partiamo dalla base un attimo che allargo le slide eccoci qua che cosa sono i certificati allora i certificati tecnicamente sono degli strumenti finanziari strutturati che vengono creati unendo insieme delle opzioni quindi se uno va a spacchettare un certificato al suo interno trova delle opzioni opzioni che vengono combinate in vario modo e che di conseguenza creano una strategia operativa una strategia che può essere ad esempio rialzista il caso del bonus cap o può essere ribassista il caso del reverse bonus oppure che produce un'entrata periodica il caso classico dei cash collect oppure degli experts quindi i certificati sono strumenti finanziari creati assemblando tra loro delle opzioni e in base a come queste opzioni vengono costruite noi abbiamo la possibilità di creare delle strategie che hanno delle caratteristiche particolari dicevamo rialziste, ribassiste o laterali sono prodotti quotati su mercati regolamentati possono essere quotati sul SEDEX con i certificati di Fontobel oppure possono essere il segmento dedicato ai certificati di Bolsa Italiana oppure possono essere quotati sul CRTX che è il mercato invece il segmento di EuroTLX in ogni caso sono quotati su mercati ufficiali e regolamentati e quindi possono essere comprati e venduti in qualsiasi momento a garantire la liquidità di questi prodotti c'è la figura del market maker che è un intermediario che di mestiere proprio fornisce in via continuativa proposte di acquisto e proposte di vendita sul book di negoziazione con l'obiettivo appunto di garantire liquidità al prodotto quindi in qualsiasi momento trovate il market maker che vi permette di acquistare e di vendere il titolo il mondo dei certificati è un mondo molto variegato nel senso che la classificazione prevede quattro tipologie abbiamo i prodotti a capitale protetto abbiamo i prodotti a capitale condizionatamente protetto che saranno quelli su cui ci concentreremo oggi poi abbiamo il capitale non protetto e abbiamo i prodotti a leva il capitale protetto significa che a scadenza è previsto un rimborso minimo del certificato quindi se il sottostante sale bene il certificato produce un buon rendimento se invece il sottostante dovesse scendere ecco che il certificato prevede un meccanismo di protezione che può essere del 100% oppure può essere del 90-95 seconda dei casi è la parte diciamo così più a basso rischio tra i certificates dopodiché abbiamo tutti i prodotti a capitale condizionatamente protetto vuol dire che a scadenza è il capitale protetto a fatto che non si sia verificato l'evento barriera che vedremo più tardi che cos'è se non si è verificato l'evento barriera a scadenza il certificato mantiene la protezione del capitale e paga o il bonus o le cedole a seconda della struttura che ha se al contrario si è verificato l'evento barriera il certificato pagherà la performance del sottostante poi abbiamo i capitale non protetto che sono quelli che si caratterizzano per replicare in modo lineare le performance di un sottostante oppure di un paniere di azioni sottostanti e poi abbiamo i certificati a leva che sono quelli che replicano a leva o a rialzo o a ribasso a seconda della tipologia long o short l'andamento del sottostante quindi sono quelli se vogliamo più aggressivi alla parte dei prodotti a capitale condizionatamente protetto troviamo i bonus e i bonus cap per quanto riguarda i prodotti a capitale non protetto troviamo i tracker e quelli a leva troviamo i leva fissa non ho citato qui perché non è argomento di oggi lo faremo nelle prossime lezioni i cash collect e gli express che sono certificati che hanno l'obiettivo finanziario di produrre l'entrata periodica che comunque apparterebbero alla tipologia di capitale condizionatamente protetto dicevo non li ho messi in questa slide semplicemente perché oggi ci concentreremo sul discorso bonus e bonus cap però in altri webinar tratteremo anche quell'argomento e quindi saremo completi questa è una schermata tratta dal sito di Fonto per cui vedete un elenco di bonus cap quotati in questo momento proprio l'immagine l'ho fatta questa mattina alle 10 qui troviamo invece bonus dopo spiegheremo la differenza tra bonus e bonus cap poi abbiamo i tracker qui diciamo del capitale non protetto e poi abbiamo tutta la sfissa dei certificati a leva per i più smanettoni per i più aggressivi e vedete ce ne sono 370 quindi c'è la possibilità di spaziare su tanti asset tanti titoli eccetera allora perché parlare di certificati? beh i certificati hanno numerosi pregi poi per carità come tutti i prodotti finanziari hanno pregi e difetti quindi deve essere bravo l'investitore a saperli selezionare privilegiando la parte di pregio a discapito di quella dei difetti però tra i principali vantaggi c'è sicuramente l'efficienza fiscale cosa voglio dire con efficienza fiscale? voglio dire che sia il capital gain che le cedole pagate dai certificati costituiscono reddito diverso e questo è molto importante in termini di recupero delle minusvalenze dovete sapere che quando avete delle minusvalenze caricate sul vostro zainetto fiscale per poterle recuperare dovete produrre reddito diverso perché i redditi di capitale purtroppo che sono i proventi per intendersi delle cedole delle obbligazioni, dividendi di azioni oppure i proventi di ETF e di fondi non permettono di recuperare minus al contrario i prodotti che producono reddito diverso invece possono essere utilizzati per compensare minus quindi il capital gain cioè la differenza di prezzo positivo di un certificato produce reddito diverso quindi se voi ho comprato un certificato a 100 lo rivendete a 106 quelle 6 monetine di guadagno sono reddito diverso e compensano minus la stessa identica cosa vale per il discorso delle cedole le cedole sia quelle condizionate che incondizionate producono reddito diverso e quindi da questo punto di vista sono uno strumento efficiente fiscalmente per recuperare le minus le imposte sono al 26% quindi sia il capital gain che la cedola in linea generale al di là del discorso recupero minus hanno come aliquota il 26% poi tra gli altri presi abbiamo un'ampia possibilità di accedere a sottostanti che magari a volte è difficile accedervi penso ad esempio a azioni cinesi o cose particolari ecco tramite i certificati è possibile accedere quindi ampia scelta di sottostanti di asset class ampia scelta di strategie a volte complesse per il risparmiatore da replicare invece con il certificato le trovate già tutte impacchettate con un click lo acquistate non c'è nessun lotto minimo quindi potete comprare anche solo un certificato se il prezzo del certificato è 100 e di conseguenza il lotto minimo in quel caso è 100 euro quindi potete comprare di molti più di 100 euro quindi è un prodotto che permette di diversificare di lavorare anche se il capitale della persona è un capitale ridotto è solo uno strumento di conseguenza utile per diversificare il portafoglio come dicevamo non avendo lotto minimo e avendo un'ampia scelta di sottostanti anche se il patrimonio è ridotto è possibile comunque costruire un buon portafoglio è uno strumento d'utile d'utile cosa vuol dire? vuol dire due cose innanzitutto la prima è che lo possiamo trattare in vari modi i certificati li possiamo negoziare ad esempio tramite piani di accumulo in determinati casi ne parleremo dopo li possiamo trattare in ottica di investing quindi compro il prodotto e lo porto a scadenza posso trattarli con un'ottica di trading compro e rivendo magari poche ore dopo per il caso dei leva oppure qualche giorno dopo per il caso ad esempio dei bonus quindi sono uno strumento che si adatta a numerose strategie operative con time frame diversi ma sono utili anche perché per ogni obiettivo finanziario c'è una tipologia di certificato che può essere utile per l'investitore se io ho come obiettivo finanziario la protezione esistono i certificati a capitale protetto se io ho come obiettivo l'entrata periodica ci sono dei certificati che hanno l'obiettivo di pagarmi una cedola periodica il caso dei cash collect piuttosto che degli express eccetera se io invece ricerco il rendimento quindi il guadagno dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita oppure di rimborso indipendentemente dal fatto che il certificato in questo caso non paghi la cedola ecco che posso orientarmi verso i bonus oppure i bonus cap in più possono essere utilizzati anche dicevamo come strumento per recuperare le minus quindi si possono imbastire delle strategie anche in quest'ottica in più permettono di ottenere rendimenti asimmetrici faccio un esempio semplice ma giusto per essere compreso tra tutti anche da chi ha le prime armi se io compro un titolo azionario se questo sale io guadagno se questo scende io perdo e il guadagno e la perdita sono commisurati effettivamente alla performance ottenuta dal sottostante se io dovessi comprare invece un certificato che so a capitale protetto se il sottostante sale il certificato mi permette di guadagnare ma se il sottostante non scende e il certificato è protetto che so al 100% io so che il rimborso minimo a scadenza sarà 100% quindi sotto un certo valore non avrò una perdita questo è un esempio di discorso di rendimento asimmetrico se ne potrebbero fare tanti altri discorsi ma magari su questo aspetto ci torneremo nei prossimi webinar quando vedremo come scomporre un certificato come analizzare le singole componenti opzionali queste sono cose che vedremo nei prossimi webinar vedo che ci sono tante domande in chat cerco di fermarmi ogni tanto a rispondere a qualche domanda comunque vedo che una domanda molto gettonata è se questo webinar è registrato la risposta è sì stiamo registrando almeno spero e quindi sì Gabriele ti confermo che stiamo registrati diciamo stiamo registrando e il webinar verrà inviato a tutti gli iscritti perfetto ottimo allora delle varie tipologie che abbiamo descritto prima quindi capitale protetto condizionatamente protetto l'eva e non protetto adesso ci concentriamo sul discorso capitale condizionatamente protetto qui fondamentalmente abbiamo due parrocchie no Don Camillo e Peppone abbiamo i certificati che hanno come obiettivo finanziario quello di produrre rendimento quindi la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita oppure di rimborso e siamo nella tipologia dei bonus o dei bonus cap oppure quelli che hanno come obiettivo quello di pagare un'entrata periodica quindi fornire reddito come si dice in gergo tecnico e quindi abbiamo la tipologia di cash collect e di express come dicevamo nel webinar di oggi ci concentriamo sul discorso rendimento quindi bonus cap e bonus allora per valutare un certificato della tipologia bonus o bonus cap quali sono gli elementi base cosa bisogna conoscere per andare a capire quali sono le caratteristiche base del prodotto allora abbiamo due livelli di elementi base da conoscere i primi sono relativi alle caratteristiche base del prodotto le seconde sono quelle un pochino più approfondite partiamo dal primo aspetto innanzitutto il nome commerciale in questo caso può essere bonus cap come un esempio che vi faccio più tardi oppure bonus e basta la tipologia appartengono in questo caso alla tipologia dei capitali condizionatamente protetto l'emittente in questo caso è fondable il codice ISIN del prodotto è questo che vedete dopo andiamo a reperirlo e il mercato di quotazione è il SEDEX di borsa italiana queste sono le prime caratteristiche in realtà a fianco di queste che sono quelle proprio più base da analizzare perché sono proprio il nome del prodotto eccetera qui abbiamo invece altre caratteristiche che bisogna conoscere che sono leggermente più avanzate rispetto a quelle che abbiamo appena visto che cosa sono? il sottostante lo strike il cap il bonus la barriera il multiplo e la valuta queste sono le caratteristiche base per valutare un bonus se lavorassimo sui prodotti cash collect quindi sui certificati di capitale condizionatamente protetto che pagano l'entrata periodica entrerebbero in funzione anche degli altri elementi come ad esempio le date di rilevazione le date di pagamento della cedola per capire chi ha diritto a incassare la cedola entrerebbe in funzione l'opzione autocorso ma ci sarebbero altri elementi base che oggi non introduciamo ma che introdurremo nei prossimi webinar quando ci concentreremo appunto sui certificati a distribuzione dei proventi oggi per quanto riguarda il cappello diciamo così dei bonus abbiamo queste caratteristiche essenziali vediamole velocemente allora che cos'è il sottostante? beh il sottostante non è altro che l'attività finanziaria che è sottostante appunto come dice il termine è il certificato e quindi è l'attività da cui poi dipende e deriva le evoluzioni del prezzo del certificato ad esempio un certificato costruito sul sottostante Enel dipenderà dall'andamento di Enel quindi Enel sarà il sottostante e il certificate sarà il derivato di Enel cosa vuol dire? vuol dire che il certificato in base ai movimenti del prezzo di Enel andrà a determinare appunto i movimenti del prezzo di certificato quindi il certificato si muove nel prezzo in base a quelli che sono gli elementi i movimenti del titolo sottostante nel caso dell'esempio era Enel quindi il sottostante è il prodotto finanziario a cui è collegato il certificato ed è quello appunto che ne muove le quotazioni poi abbiamo lo strike lo strike price non è altro che il prezzo iniziale che aveva il sottostante nel momento in cui il certificato è stato emesso quindi si prende si fa la fotografia del prezzo del sottostante nel momento in cui il certificato nasce il certificato nasce il primo dicembre benissimo il primo dicembre si fa la fotografia al prezzo del sottostante nel caso di prima abbiamo citato Enel quindi continuiamo con questo esempio quindi si fa la fotografia al titolo Enel quel giorno e quel prezzo rappresenta il valore strike il valore strike è importante perché da lui discendono una serie di livelli chiave che determinano poi le caratteristiche del prodotto ad esempio per quanto riguarda i bonus e i bonus cap dallo strike dipende il livello della barriera la barriera è una percentuale del livello dello strike oppure per quanto riguarda i cash collet può essere utile per valutare la facoltà di richiamare in anticipo il certificato quindi lo strike è il prezzo che aveva il sottostante nel momento in cui il certificato è stato creato e da questo livello si calcolano poi la barriera e altri livelli chiave il bonus identifica il rendimento che viene pagato al possessore del certificato alla scadenza per il quanto riguarda il certificato ovviamente a fatto che non si sia verificato la barriera quindi voi comprate il certificato a 100 se il bonus è 108 vuol dire che a scadenza se non si è verificato l'evento barriera il vostro rimborso sarà 100 più 8 quindi 108 quel 108 rappresenta appunto il bonus il cap è collegato al bonus e rappresenta l'importo massimo monetario che può essere rimborsato al possessore del certificato quindi il certificato ad esempio un bonus è cap replica la performance del sottostante quindi se il sottostante sale anche il bonus cap salirà di prezzo e rimborserà un bonus però entro un importo massimo predefinito fin dall'origine quindi scritto nel prospetto informativo questo massimale che viene rimborsato è appunto il cap dopodiché abbiamo la barriera che è un altro elemento base da conoscere la barriera indica quel livello di prezzo del sottostante che determina la protezione oppure la mancanza di protezione per quanto riguarda il sottostante quindi è quel livello di prezzo sotto il quale il certificato perde la come si chiama perde la protezione quindi fondamentalmente a scadenza in quel caso il certificato rimborsa la performance del sottostante la barriera quindi nei bonus cap è un livello inferiore sotto il quale si perde la protezione la barriera può essere di due tipi può essere continua oppure discreta la barriera continua vuol dire che attiva ogni giorno di vita del certificato quindi dal giorno dell'emissione al giorno della scadenza se il sottostante scende e tocca il livello della barriera tecnicamente si perde la protezione e quindi a scadenza il certificato rimborserà la performance del sottostante al contrario invece la barriera discreta detta anche barriera scadenza identifica il fatto che questa barriera viene rilevata cioè verificata solo a scadenza quindi se nel corso della vita il sottostante dovesse scendere sotto la barriera discreta non è un problema perché la protezione del certificato resta invariata non viene modificata a scadenza invece sarà un dato ovviamente da rilevare quindi attenzione perché la barriera di due tipi continua attiva ogni giorno di vita del certificato oppure discreta attiva solo a scadenza la barriera fa fede abbiamo detto nel caso dei bonus dei bonus che per quanto riguarda il rimborso del capitale a scadenza cioè per quanto riguarda la protezione ovviamente queste due barriere sono diverse come grado di rischio perché perché la barriera continua essendo attiva ogni giorno di rischio ogni giorno di vita del certificato contempla un grado di rischio maggiore rispetto alla barriera discreta che invece è attiva solo a scadenza questo è un dato da tenere in considerazione soprattutto in certi momenti chiave del mercato se siamo in una fase sfacciatamente ribassista o del sottostante del mercato in generale conviene lavorare magari su certificati a barriera discreta hanno magari un rendimento leggermente inferiore ma un grado di protezione maggiore se invece siamo in una fase rialzista ecco che allora magari la barriera continua è vero che è più rischiosa ma è anche più rimunerativa e quindi quel contesto può essere utilizzata quindi a seconda dell'ottica possiamo utilizzare una piuttosto che l'altra collegato alla barriera c'è la sfiga cosa vuol dire c'è l'evento barriera l'evento barriera è fondamentalmente la circostanza tale per cui il prezzo del sottostante scende sotto al livello della barriera quindi se la barriera è continua basta che il prezzo del sottostante scenda sotto la barriera in qualsiasi momento nell'arco della vita del certificato per verificarsi l'evento barriera e far sì che venga persa la protezione del certificato al contrario se la barriera è discreta l'evento barriera può verificarsi solo a scadenza dopodiché qui entriamo nei tecnicismi lo cito per completezza ma forse per l'operatività in certi casi non è così determinante soprattutto per chi inizia oggi c'è il discorso del multiplo che identifica la quantità di sottostante che viene mossa dal singolo certificato lo si calcola in modo molto semplice si prende il valore iniziale del certificato ad esempio 100 si prende lo strike e si dividono tra loro quindi se il prezzo iniziale del certificato è 100 e lo strike è 6 e 74 come in questo caso si fa 100 diviso 6 e 74 e si identificano 14,82 questo 14,82 è il numero di azioni in questo caso di Enel che vengono modificate da un unico certificato è uno strumento che può essere utile quando si lavora sulla copertura del prodotto poi abbiamo il discorso della valuta allora se il sottostante è quotato in euro non ci sono problemi quindi se io tratto un certificato con il sottostante Enel un titolo tedesco francese che sono quotati in euro non è assolutamente un problema di non c'è rischio cambio perché è tutto in euro se però io vado a lavorare ad esempio sull'indice americano come sottostante piuttosto che un titolo azionario americano che so Apple piuttosto che Tesla ecco che in questo caso il sottostante è denominato in una valuta diversa dall'euro quindi di conseguenza devo fare i conti con il rischio cambio quindi attenzione perché la valuta del sottostante può avere un'incidenza sull'andamento del prezzo del certificato e sulle sue dinamiche di quotazione attenzione però perché alcuni certificati possono contenere l'opzione quanto l'opzione quanto è un'opzione un meccanismo diciamo così di protezione che anestetizza completamente il rischio cambio quindi quando trovate un certificato con l'indicazione di quanto vuol dire che quello è un certificato che in origine è costruito su un prodotto denominato in una valuta extra ma grazie al fatto che è presente l'opzione quanto il meccanismo di protezione attivo e quindi il rischio cambio è completamente anestetizzato e eliminato tra i vari certificati che ho addocchiato ve ne presento uno che secondo me è interessante tra l'altro l'ha creato un amico l'ha creato Tony Ciole Pugani che probabilmente molti di voi conoscono e queste sono le caratteristiche non salienti di questo prodotto vedete il sottostante Enel vedete abbiamo lo strike che è 6,74 è il prezzo quindi 6,74 che aveva il titolo Enel quando questo certificato è stato costruito è stato emesso poi abbiamo il cap che è 108,72 in questo caso il bonus coincide con il cap che è vedete sempre 108,72 vuol dire che voi comprate ad esempio in emissione questo prodotto a 100 e se non si verifica l'evento barriera a scadenza rimborsa 108,72 su questo argomento ci torniamo più tardi la barriera nel caso dei bonus e dei bonus cap è una barriera continua intraday quindi siamo di fronte a un certificato che ha la barriera attiva ogni giorno di vita del proprio di vita del certificato abbiamo il multiplo che è 14,72 ho preso esattamente questo esempio nel caso di prima e poi abbiamo in questo caso la valuta che non è un problema perché è nel titolo quotato in Italia quindi è quotato in euro e quindi non c'è la valuta a fare da variabile per il discorso del cambio tutti questi dati voi li trovate sul sito di Fontobel sul prospetto informativo e su tutti questi elementi ad esempio dovrei riuscire a trovarvelo al volo eccoci qua l'avevo già collegato vedete questo è il certificato che vi ho appena descritto vedete è un qui siamo sul sito vedete di Fontobel questo è un bonus cap con sottostante vedete il titolo Enel qui trovate il codice ISIN qui trovate vedete denaro e lettera quindi la miglior proposta in acquisto la miglior proposta in vendita questi sono riferiti al market maker e vedete anche la size cioè ci sono vedete 6.000 2.000 scusate 2.600 pezzi in acquisto a 99,80 e 2.600 pezzi in vendita vedete a 100,40 quindi qui c'è il market maker che garantisce vedete liquidità al sistema dopodiché se voi scendete avete tutti vedete una serie di caratteristiche su questo prodotto vedete avete la distanza dalla barriera e vi indica se la barriera è stata toccata o no vedete la data vedete in cui il certificato è stato creato il primo giorno di quotazione del certificato vedete la data di scadenza e poi vabbè di conseguenza la data di liquidazione cioè quando vi verrà dato il denaro praticamente sul conto corrente poi potete lavorare sul discorso del grafico vedete e potete lavorare sia sul grafico dell'andamento del prezzo del certificato sia l'andamento del sottostante vedete la linea verde è il titolo è nella linea rera è l'andamento del certificato potete inserire il livello di bonus eccetera dopodiché qua sotto avete tutte altre caratteristiche che vanno a completare questo dato vedete avete il livello della barriera avete il livello del capo avete il livello vedete del multiple avete il mercato dove è quotato quindi avete tutti gli elementi per negoziarlo a fianco di tutti questi elementi se andate qua in alto trovate vedete la brochure le condizioni definitive tutta una serie di elementi se cliccate sulla brochure è in italiano è fatta molto bene dal mio punto di vista e trovate vedete un documento questo è un pdf lo potete anche stampare o conservare dove trovate tutte le caratteristiche che vi ho appena descritto quindi quelle sintetiche in più vi hanno descritto vedete qual è la caratteristica di questo prodotto vedete che permette di ottenere un rendimento sia in caso di rialzo o la lateralizzazione del sottostante ma in caso anche di moderato ribasso delle quotazioni quindi trovate vedete tutte le caratteristiche del prodotto poi se andate alla voce prospetto informativo condizioni definitive trovate tanti altri elementi per identificarlo ma su questo magari ci torniamo fra un attimo Francesca vuoi sì Gabriele vorrei aggiungere ovviamente nelle brochure in seconda pagina ci sono tutti i scenari a scadenza quindi ogni volta che si sta guardando un bonus certifico che si diciamo preventivamente vuole capire magari il cliente come funziona che cosa riceverà a scadenza sulla base di come si comporterà il sottostante quindi in questo caso Enel abbiamo i diversi scenari e ogni brochure è fatta ad hoc per il singolo prodotto quindi per ogni prodotto si ha già un'idea degli scenari a scadenza e tutte le caratteristiche in modo sintetico ovviamente per tutte le informazioni in modo completo si rimanda sempre ai final terms e a tutta la documentazione legale esatto un altro dato che non ho citato ma che secondo me può esservi utile adesso qui non lo trovo nel caso della vita però e vedete qua c'è il numero verde e c'è anche la mail per qualsiasi cosa cioè se voi avete dei dubbi domande chiarimenti ovviamente potete contattare me per carità ma visto che l'emittente Pontovel la fonte migliore per i tecnicismi soprattutto sono loro e quindi in questo caso vedete potete trovare i dati adesso non mi ricordo dove li ho messi anche qua sotto vedete avete la mail avete il numero verde li potete chiamare risponde Francesca in lingua italiana e vi darà tutte le indicazioni del caso soprattutto questo lo dico per chi è neofita a volte quando uno muove i primi passi ha mille dubbi mille domande magari mille insicurezze a volte si vergogna anche a fare domande ecco non vergognatevi perché ci siamo passati tutti anche io la prima volta che mi sono approcciato a questo strumento dei certificati ero pieno di domande facevo magari fatica a orientarmi su tecnicismi eccetera e ho avuto la fortuna io facevo parte anche dell'ambiente per cui ero un po' agevolato rispetto ad altri di conoscere qualche emittente quindi davo un colpo di telefono poi sono un amico di Scandura quindi è stata una grande guida agli inizi per me in ogni caso per voi oltre ad avere me come aiuto mi potete scrivere in qualsiasi momento potete anche contattare l'emittente ripeto sono molto disponibili nel rispondere alle mail alle telefonate e chiarire ogni vostro dubbio quindi anche questo è un dato che dovete sempre tenere in considerazione discorso bonus quindi vediamo un attimo di entrare nel dettaglio dei bonus abbiamo già anticipato qualcosa di questo bonus vediamo un attimo di entrare più nel dettaglio allora la classica domanda abbiamo detto che un certificato è un prodotto costruito unendo insieme delle opzioni e in base a come vengono assemblate queste opzioni il certificato ha una determinata strategia che può essere rialzista laterale o ribassista dal momento che si tratta di un prodotto composto da opzioni di conseguenza le variabili che determinano il movimento del prezzo del certificato quindi il suo rialzo il suo ribasso la percentuale di rialzo la percentuale di ribasso determinano da che cosa da quelle che sono le classiche variabili che determinano poi anche il movimento delle opzioni quali sono quindi questi elementi chiave le variabili chiave in realtà sarebbe più corretto dire che muovono verso l'alto verso il basso il prezzo di un certificato in questo caso mi sto ovviamente riferendo in particolare ai bonus e ai bonus cap beh c'è l'andamento del prezzo del sottostante questo è banale ma senz'altro è un dato essenziale non il sottostante sale o scende già questo ci permette di identificare il trend cioè se il certificato è rialzista come un bonus o un bonus cap allora il rialzo del sottostante sarà un vantaggio per quanto riguarda il certificato se invece il certificato è un reverse bonus quindi un certificato che aumenta di prezzo quando il sottostante scende voi capite che se il sottostante scende il reverse aumenta di prezzo altrimenti no quindi il primo aspetto è l'andamento del sottostante questo ripeto è abbastanza banale intuitivo in realtà ci sono altri aspetti che oggi vi cito e basta perché faremo un secondo webinar più approfondito rispetto ad oggi dove andremo a prendere un certificato lo andremo a spacchettare a vedere come si comportano le singole componenti quindi oggi io queste variabili mi limito a citarle poi li andremo ad approfondire in separata sede comunque un'altra variabile che influenza è la volatilità del sottostante se la volatilità è alta o bassa oppure in aumento oppure in diminuzione ecco che il prezzo del certificato avrà degli andamenti particolari il trascorrere del tempo è un altro aspetto fondamentale poi abbiamo l'andamento dei tassi di interesse poi abbiamo i dividendi attesi ovviamente parliamo dei dividendi attesi del sottostante attesi intendo durante la vita del certificato quindi se è certificato a 5 anni di vita occorre analizzare i potenziali dividendi erogati dal sottostante da qui ai prossimi 5 anni e poi abbiamo detto c'è l'incognita valuta e se il sottostante è in euro non c'è questa incognita se invece il sottostante è valuta estra abbiamo ovviamente anche questa incognita da tenere in considerazione ripeto oggi mi limito a citare tutti questi elementi li andremo a prendere uno per uno nel dettaglio nella prossima webinar prima vi ho citato un certificato l'ho preso tra l'elenco di quelli quotati vedete se voi andate sulla home page trovate qui sulla sinistra un menu molto veloce dove trovate tutta una serie di prodotti in questo caso se cliccate su bonus cap vedete vi si apre un'altra pagina vedete con una serie di prodotti vedete in questo caso sono tutti iscritti su emittenti italiani tranne questo che è l'indice europeo nel caso di prima vedete ho preso come riferimento il titolo Enel ma la struttura è uguale per tutti gli altri dopo magari se abbiamo tempo ne prendiamo anche altri come si legge questo certificato no? allora si legge in questo modo quindi questo è il codice e il sottostante Enel questo vuol dire che se il sottostante quindi il titolo Enel da qui a scadenza che è posta vedete il 28 settembre del 2020 quindi se da qui a scadenza il sottostante non scende mai a toccare la barriera di 540 barriera che è continua allora che vuol dire che dista il 20% ad oggi quindi se da qui a scadenza il titolo Enel non scende mai del 20% a toccare la barriera di 540 ecco che questo certificato rimborsa il bonus che coincide con il cap di 108 e 72 considerando che lo si compra in lettera a 98 e 80 quando ho fatto le slide leggermente salito prima vedevo 100 ecco che allora il rendimento lord annualizzato è del 9 e 20% quindi questo è un esempio e ne possiamo prendere un altro visto che siamo arrivati su questo argomento se io prendo ad esempio il secondo giusto per comodità questo è un certificato vedete che ha come sottostante il titolo Eni in questo momento il certificato vedete quota 89,60 in acquisto e 90 e 20 in vendita a scendere troviamo tutte le varie caratteristiche che cosa troviamo? beh troviamo ad esempio più in basso adesso quando cerchi una roba al volo non la trovi mai comunque ve lo anticipo io la barriera è continua intraday quindi vuol dire che questo certificato è collegato al titolo Eni quindi se il titolo Eni non scende mai a toccare la barriera continua barriera che posta rispetto alle quotazioni di oggi un 36% in basso andiamo a prendere il livello preciso vedete non scende mai a toccare 8,63 che per il titolo Eni è sicuramente un livello conservativo e quindi se entro la scadenza che abbiamo detto essere vedete il 16 novembre 2022 quindi se entro il 16 novembre 2022 il titolo Eni non scende del 36% a toccare la barriera di 8,63 allora questo certificato rimborsa il bonus che un attimo che lo cerchiamo quando cerchi una cosa al volo non la trovi mai andiamo a prenderla qui rimborsa il bonus vedete di 106,42 lo si compra oggi in area 90 e quindi il rendimento potenziale è stato calcolato qui è un 18,5% l'ordo anno questo rendimento è calcolato come se il prodotto fosse uno zero coupon quindi la formula matematica per il calcolo del rendimento appunto la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo dell'imborso se non si verifica l'evento barriera è rapportato ovviamente per il tempo detenuto in portafoglio per chi si crea un file excel la formula di calcolo è il tier.x quindi nello scenario positivo in questo caso vedete il certificato vi rimborsa 106,42 lo comprate oggi a 90,20 e ottenete un rendimento positivo del 18,50 questo è lo scenario positivo poi c'è l'altro scenario quello negativo cioè il certificato nel corso della propria vita scende a toccare il valore della barriera quindi ENI in questo caso scende sotto 8,63 quindi va a 8,60 a questo punto a scadenza nel 2022 certificato rimborsa e per calcolare il prezzo del rimborso si applica la formula prezzo finale del sottostante ENI diviso il prezzo iniziale del sottostante che è il livello di strike moltiplicato per 100 quindi si prende il prezzo finale di ENI lo si divide per il prezzo iniziale di ENI questo numero non si moltiplica per 100 in questo modo si ottiene il valore di rimborso e questo è l'aspetto importante di questa tipologia di prodotto qui stiamo parlando dei bonus cap attenzione a un dato vado a prendere le slide per vedere se le avevo preparate altrimenti vado a braccio no ok attenzione a un dato esistono in questo momento due tipologie di bonus esistono i bonus normale e i bonus cap qual è la differenza allora possiamo andare magari a prendere entrambi così lì vedete sto aprendo entrambe le pagine qui troviamo vedete i bonus cap questa pagina al momento ce ne sono otto e in quest'altra avete trovato i bonus la differenza è che uno ha il cap e l'altro non ha il cap quindi sono entrambi prodotti a capitale condizionatamente protetti entrambi soddisfano l'obiettivo rendimento quindi entrambi non pagano una cedola ma il guadagno è data la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso entrambi hanno la barriera attiva scusate la barriera continua intraday quindi attiva ogni giorno di vita del certificato la differenza saliente è quello che nel primo caso i bonus cap hanno un prezzo massimo di rimborso quindi un cap oltre il quale non si partecipa alla performa del sottostante invece i certificati bonus non hanno il cap e quindi partecipano al rialzo al 100% del certificato vi faccio un esempio qui ho preso il sito cedlab giusto per comodità questo è il primo certificato vedete questo è il bonus cap e se noi andiamo alla voce cap e bonus troviamo vedete 108 72 se invece andiamo sul secondo certificato si tratta solo di un bonus quindi sparisce il cap se noi andiamo a vedere il risultato vedete che vi dice partecipazione up 100% questa è la differenza sostanziale se vuoi aggiungere qualcosa Francesca in merito a bonus bonus cap Gabriele vorrei anche magari far vedere il grafico diciamo del payoff di questa tipologia di certificati spero che lo vedete già quindi abbiamo diverse diciamo due tipologie principali bonus e bonus cap nel bonus cap ovviamente mettiamo un cap quindi un massimale di rendimento possibile per l'investitore questo che cosa significa significa che ovviamente il livello del bonus sarà più alto rispetto a un bonus senza cap allo stesso tempo nel caso di un rialzo superiore al livello del bonus non si beneficia di tale rialzo superiore al livello del bonus nel caso appunto di un forte rialzo del sottostante quindi come vediamo nel bonus cap certificate dove il livello del bonus e il livello del cap coincidono abbiamo prevalentemente due scenari quindi nel caso in cui il sottostante non ha violato la barriera andiamo uno a uno con il sottostante quindi probabilmente potremmo realizzare una perdita nel caso in cui siamo sotto il livello barriera nel caso in cui abbiamo toccato la barriera prima della scadenza e a scadenza comunque siamo sopra il livello barriera andiamo uno a uno con il sottostante fino al livello del cap nel caso in cui invece non abbiamo mai violato la barriera quindi fino a scadenza il sottostante non ha mai toccato la barriera prendiamo il bonus quindi se anche siamo sotto il livello di strike ma superiori al livello di barriera in quel caso guadagniamo il bonus che cosa che cosa ha pensato Fontobel per i propri investitori ha pensato un prodotto che andasse un po' a superare la problematica del bonus cap standard perché perché come abbiamo detto se il sottostante realizza a scadenza una performance superiore al bonus ovviamente non si guadagna quella performance superiore quindi l'unico modo è staccare diciamo il livello bonus dal livello cap quindi piazzare un livello bonus diverso dal cap dove ovviamente il cap è superiore al livello bonus in questo caso quindi abbiamo tre scenari se il sottostante non ha mai violato la barriera quindi in questo caso se non abbiamo mai violato la barriera e abbiamo un sottostante compreso tra la barriera e il livello bonus guadagniamo il bonus quindi se anche siamo sotto lo strike ma sopra la barriera comunque prendiamo il bonus se il sottostante supera il livello bonus quindi ad esempio abbiamo un bonus al 10% il sottostante è realizzato un 12% a scadenza anche il nostro certificato bonus cap comunque realizza questo 12% a scadenza fin tanto che il cap sia superiore quindi potremmo avere ad esempio un bonus del 10% un cap al 15% in quel caso tra il 10% e il 15% quindi se il sottostante realizza una performance superiore al bonus ma comunque diciamo inferiore al cap in quel caso siamo 1-1 con il sottostante fino al livello di cap questa è un po' la novità che abbiamo portato sul mercato italiano per cercare di soddisfare le esigenze dei nostri clienti che appunto ci riportavano la problematica del cap che rendeva delle volte il bonus non proprio attraente altro grafico che vorrei far vedere invece è quello del bonus certificate senza alcun cap in questo caso se il sottostante è compreso tra il livello barriera e il livello bonus prendiamo il bonus se il sottostante supera questo livello bonus andiamo 1-1 con il sottostante questo che significa significa che acquistare un bonus certificate rispetto ad un'azione significa rinunciare al dividendo ma proteggersi attraverso una barriera quindi proteggersi fino al livello barriera e in quel caso prendere un livello di bonus quindi si rinuncia al dividendo per ottenere un bonus e una protezione condizionata del capitale che è un po' l'idea a base dei bonus certificate non so se Gabriele vuoi aggiungere anche tu qualcosa anche a livello più operativo su come scegliere questa tipologia di prodotto perché ci sono molte domande anche su se può essere interessante acquistare un bonus oltre i 100 euro quindi quando supera il 100 euro abbiamo avuto proprio una una domanda da Lorenzo che può essere un punto visto che in genere la maggior parte dei bonus vengono acquistati soprattutto sotto i 100 euro sì beh secondo me non c'è una regola base c'è nel senso c'è una regola base ma non è quella del prezzo cioè acquistarlo sotto la pari o sopra la pari è più un fattore spesso psicologico bisogna vedere se il sottostante che nel momento è impostato a rialzo ha determinate caratteristiche se ha determinate caratteristiche allora può essere interessante anche valutare un certificato anche se sopra 100 l'importante è che abbia una distanza dalla barriera congrua e abbia ovviamente un potenziale di rendimento in modo tale che il rapporto rischio rendimento tra questi due fattori sia favorevole quindi non c'è una risposta univoca sopra 100 non si compra sotto 100 invece si può comprare diciamo che secondo me ci vuole un margine di si insomma bisogna è un discorso un po' più raffinato rispetto al mero prezzo fondamentalmente dopo comunque lo vediamo assolutamente questo aspetto in realtà oggi lo citiamo e poi magari nei prossimi webinar entriamo nel dettaglio di qualcosa di ancora più concreto però arriveremo anche lì nei prossimi webinar ok dovrei avere ripreso scusate la voce dovrei avere ripreso lo schermo quindi adesso dovreste vedere chiedo conferma di nuovo la mia presentazione aspetto un riscontro per così così sono tranquillo di essere ok perfetto benissimo allora vediamo adesso proprio di andare in direzione di quello che chiedeva Lorenzo quindi di selezionare i certificati e in questo caso la selezione la sto declinando proprio sui capitali condizionatamente protetto come tutte le selezioni io vi spiego qual è il mio criterio quello che io personalmente utilizzo qualcuno di voi ovviamente potrebbe ad esempio avere dei criteri differenti io però mi fornisco il mio perché vedo che nel corso degli anni da dei buoni risultati quindi mi sento di condividere allora la selezione avviene a due livelli la prima selezione avviene sul sottostante la seconda sul certificato è un aspetto importante perché dovete sapere che la selezione parte non dal certificato ma dal sottostante quindi prima devo identificare un sottostante che è in un momento particolare che si presta a essere acquistato dopodiché vado a vedere quali sono i certificati scritti su quel sottostante e quindi solo in un secondo momento farà la selezione del certificato questo è importante perché molti investitori neofiti invertono questi passaggi o meglio si concentrano saltano il primo saltano il passaggio dell'analisi del sottostante si concentrano solo sul certificato in genere il certificato viene selezionato come quello che rende di più in realtà è un criterio sbagliato perché spesso e volentieri questo criterio è monco sì il rendimento è una parte importante della strategia ma non è l'unica dipende anche dall'andamento del sottostante dipende dalla distanza dalla barriera da altri fattori quindi se si parte solo dal certificato spesso e volentieri si finisce fuori strada o quantomeno l'analisi è monca non è completa quindi primo aspetto si parte dall'analisi del sottostante e solo in un secondo momento dopo aver identificato un sottostante che è soddisfacente per una serie di criteri che adesso vediamo si passa all'analisi del certificato che cosa bisogna considerare di un sottostante beh bisogna considerare una serie di passaggi il primo è quale sottostante stiamo analizzando perché possiamo analizzare un sottostante che è una singola azione possiamo avere come sottostante un indice quindi un paniere di azioni possiamo avere come sottostante una valuta una materia prima quindi questi sono tutti i prodotti che hanno caratteristiche diverse se io compro un prodotto che ha come sottostante un indice oppure un prodotto che ha come sottostante una singola azione ho due sottostanti che è vero sono entrambi azionari ma nel caso dell'azione avrà una volatilità maggiore rispetto al sottostante composto da un indice che è un paniere ponderato quindi c'è la logica è la volatilità di un indice tende ad essere inferiore a quella delle azioni che lo compongono soprattutto quelle più volatili quindi da questo punto di vista innanzitutto primo quale sottostante sto lavorando sottostante molto volatile poco volatile secondo aspetto è appunto andare a analizzare la volatilità del sottostante ci sono secondo me dei sottostanti che si sposano meglio con soprattutto l'ottica del buon padre di famiglia dell'investitore prudente che sono quei sottostanti che hanno una volatilità contenuta non dico bassa o troppo bassa perché poi alla fine diventa difficile costruire il certificato il certificato si costruisce bene quando sui mercati finanziari c'è volatilità lo vedremo meglio nel prossimo webinar quindi la volatilità serve per costruire un buon prodotto detto questo un conto è un sottostante come Eni un conto è un sottostante come Tesla che ha una volatilità alle stelle mentre Eni tende ad avere una volatilità abbastanza contenuta ecco Eni ad esempio è un titolo che per quanto riguarda i sottostanti tende a piacermi parecchio come mi piacciono parecchi certificati costruiti sugli indici proprio perché hanno una volatilità tendenzialmente contenuta dopodiché occorre analizzare anche il contesto di mercato siamo in un contesto rialzista per quanto riguarda il mercato in generale il settore e il singolo titolo siamo in un mercato laterale siamo in un mercato ribassista anche questo è un aspetto da tenere in considerazione come è da tenere in considerazione anche il discorso dei temi caldi faccio un esempio se siamo in una fase in cui che so i titoli bancari rischiano un aumento di capitale beh magari io non andrei a comprare in quel momento un certificato su un titolo che sta per lanciare un aumento di capitale o perlomeno non comprare un certificato bonus cap o bonus magari potrei valutare un reverse quindi attenzione questo è un dato importante se ad esempio invece abbiamo un periodo particolarmente favorevole per il petrolio per i titoli petroliferi ecco che magari il tema caldo è quello dei titoli di quel settore quindi magari sarà utile andare ad approfondire quel aspetto tematico quindi questo è un altro dato da considerare dopodiché consideriamo anche la parte grafica cioè qual è la tendenza del titolo nel breve e nel medio periodo questi sono tutti aspetti da valutare quindi primo parto dal sottostante identifico un sottostante con una volatilità tutto sommato contenuta che si trova in un contesto propizio e che ha un'impostazione grafico di breve di medio periodo che è o rialzista oppure laterale a questo punto quindi mi concentro ad esempio sulla scelta del certificato quindi che cosa faccio? passo alla seconda fase della selezione vado a fare la mappa di quelli che sono tutti i certificati cosa vuol dire? vado a vedere quali sono i certificati quotati che hanno come sottostante il sottostante che ho identificato io nell'esempio di prima aveva fatto il titolo Enel quindi ipotizziamo che dalla prima selezione emerso il titolo Enel il secondo passaggio vado a cercare a classificare ad analizzare tutti i certificati che hanno come sottostante il titolo Enel dopodiché tra tutti quelli che ho individuato faccio un'ulteriore scrematura e mi pongo la domanda qual è il mio obiettivo finanziario? voglio ottenere un'entrata periodica da questo mio investimento o voglio ottenere un rendimento? se voglio ottenere un'entrata periodica dovrò orientarmi sui certificati che pagano una cedola quindi cash collect express come struttura se invece il mio obiettivo è quello di avere un rendimento allora mi concentrerò sui bonus sul bonus cap in questo caso facciamo quindi di concentrarci sull'obiettivo rendimento e quindi eliminiamo tutti quelli a distribuzione ci concentriamo su questi dopodiché facciamo un passaggio sul sottostante in realtà l'avevamo già fatto il passaggio sul sottostante qui semplicemente sottolineo un altro aspetto io personalmente preferisco i certificati che hanno uno o al massimo due certificati questo non vuol dire che i certificati che hanno tre, quattro addirittura cinque sottostanti siano da evitare come la peste a tutti i costi questo assolutamente no però in linea generale la logica qual è? è che più inseriamo dei sottostanti nel certificato e aumentano di fatto le variabili che ne determinano il prezzo quindi diventa sempre più complicato riuscire a gestire da un lato è vero ti migliora il rendimento quindi l'emittente è più ciccia da utilizzare quindi può dare cedole o bonus più pingui più generosi può utilizzare barriere più lontane ma è chiaro che più sottostanti inserite è più probabile che uno di questi vada a barriera considerate che quando abbiamo più di un sottostante la tipologia di certificati si chiama worst off worst off significa che per i fini della protezione del capitale si prende riferimento alla performance del titolo che è andato peggio del paniere di sottostante e quindi questo è un dato in considerazione quindi io personalmente preferisco ma questo è un mio gusto personale i certificati scritti su uno oppure due sottostanti questo è in linea generale ripeto nulla vieta di fare scelte alternative però dovete essere consci che a maggiore rendimento corrisponde poi un maggiore grado di rischio cioè è più facile che si va da barriera dopodiché si analizza lo scenario e quindi anche qui in base allo scenario che abbiamo delineato prima è uno scenario rialzista allora andrò a cercare dei certificati che si sposano con uno scenario di questo tipo ad esempio se io compro un bonus un bonus cap vado a sposare uno scenario di fondo rialzista laterale o moderatamente ribassista quindi ribassista entro il livello della barriera se io invece ipotizzo uno scenario laterale beh lo strumento migliore in genere può essere anche il bonus ma è il cash collect perché ti permette di avere delle entrate cedolari fino a scadenza del sottostante se invece lo scenario ribassista beh sicuramente se devo lavorare con un bonus mi conviene collaborare con un bonus che abbia barriera discreta ma in linea generale in un contesto ribassista ovviamente lo strumento principe sono i reverse bonus cap quindi quei certificati che aumentano di prezzo nel momento in cui il sottostante scende quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione dopodichè vado a verificare il discorso della barriera abbiamo detto che la barriera può essere o continua o discreta continua vuol dire attiva ogni giorno di vita del certificato discreta vuol dire attiva solo a scadenza questo è un dato molto importante in termini anche di grado di rischio se volete se volete essere i più conservativi e prudenti possibili conviene orientarsi su un discorso di rischio di barriera discreta altrimenti potete tranquillamente utilizzare la barriera continua questo vale anche per il contesto di mercato cioè se è un mercato sfacciatamente rialzista tranquillamente non ci sono problemi usare una barriera continua se è un mercato invece un po' incerto o moderatamente ribassista una barriera discreta tende ad essere più tutelante in linea generale in più questo è il mio punto di vista personale amo le barriere che sono distanti almeno un 25-30% quindi sono disposto a concedere qualcosa a rendimento quindi avere un rendimento leggermente più basso a fronte però di una maggiore protezione questo è un mio gusto personale quindi ripeto questa è la mia modalità di selezione dei certificati qualcuno potrebbe avere criteri diversi però io mi sento di condividere questi perché ripeto negli anni mi hanno dato risultati continuo a darne e quindi mi sento di parlarne dopodiché occorre analizzare anche la scadenza allora e anche qui bisogna considerare una serie di dati allora il punto di partenza per definire la scadenza è quello che deve essere compatibile con la propria ottica temporale cioè se io fra sei mesi mi devo sposare è chiaro che non posso comprare un certificato oggi che scade fra cinque anni perché fra sei mesi lo dovrei andare a vendere e quindi farei i conti con il prezzo di mercato che magari anche solo momentaneamente potrebbe essere diminuito quindi il primo aspetto è compro solo i certificati che siano compatibili con la mia ottica temporale se invece il certificato che scade nel 2000 che so 22 lo posso mantenere a scadenza senza problemi ecco che già è un punto di partenza buono quindi primo verificare la propria ottica temporale e comprare solo scadenze compatibili con quest'ottica secondo dipende secondo me anche dalla tipologia di barriera del certificato se la barriera è discreta cioè attiva sulla scadenza la scadenza lunga di un certificato dal mio punto di vista non è un grande problema cioè che scada fra un anno due tre o quattro il fatto che sia barriera continua a barriera discreta mi tende abbastanza a tutelare se invece la barriera è continua quindi attivo ogni giorno di vita preferisco questo mio gusto personale andare su scadenze brevi dove scadenze brevi intendo 6-12 mesi poi su certi sottostanti posso andare in certi contesti a 18 mesi quindi un anno e mezzo ma in generale tendo ad essere un pochino più cauto da questo punto di vista perché è una barriera un pochino più rischiosa dell'altra quindi vedete che anche secondo delle caratteristiche del prodotto poi abbiamo delle scelte diverse dal punto di vista della selezione qui ho messo le slide anche di selezione e della cedola anche se in realtà in questo webinar ci stiamo concentrando sul discorso bonus e bonus cap quindi qui trovate questa descrizione ma in realtà adesso non ve la cito perché la vedremo poi in un prossimo webinar più avanti quando parleremo dei prodotti a distribuzione però se il prodotto ovviamente paga una cedola periodica bisogna analizzare anche le caratteristiche della cedola dopodiché occorre valutare il valore dello strike in realtà in questo caso lo strike spesso e volentieri è più importante nel caso dei cash call quindi dei prodotti di distribuzione dei proventi perché da quello determina poi la facoltà dell'emittente di richiamare in anticipo rispetto alla naturale scadenza il certificato dovete sapere infatti che quando il certificato presenta al suo interno l'opzione call vuol dire che da una certa data in poi se il sottostante è superiore a un determinato valore di prezzo il certificato può essere rimborsato in anticipo ecco per determinare l'opzione call se scatta o meno quindi se il certificato viene richiamato si guarda il valore dello strike però nel caso dei bonus di bonus cap questo aspetto non c'è quindi passiamo oltre dopodiché bisogna analizzare il rendimento di un certificato quindi va bene il prezzo di acquisto va bene la scadenza va bene la barriera va bene la distanza della barriera va bene il contesto del sottostante però quanto mi rende perché a volte troviamo dei certificati che sono distanti non so un 60% dalla barriera scadono fra sei mesi ma poi quando andiamo a vedere il rendimento troviamo 0,20 voi capite che a questo punto non è un rendimento particolarmente sexy e quindi bisogna trovare poi una quadra tra tutti questi elementi io personalmente calcolo sempre nei miei file excel il rendimento sia in bid quindi la migliore proposta in acquisto che in ask la migliore proposta in vendita poi in realtà spesso e volentieri quando si lavora con i certificati si compra in ask si compra in lettera quindi si compra sulla migliore proposta in vendita però in linea generale io tendo a farmi i due scenari quindi calcolo entrambi i rendimenti sia sull'uno che sull'altro vi rubo altri due minuti per le ultime slide e Francesca vuoi illustrare qualche altro aspetto vuoi intervenire in realtà ti manderei avanti e poi facciamo vedere magari il sito web e la parte parliamo un attimo di ITCAP però per ora direi che puoi illustrare una strategia operativa che penso molti siano interessati ok allora per quanto riguarda l'impostazione di una strategia operativa che cosa bisogna fare beh innanzitutto bisogna anche qui valutare una serie di passaggi il primo passaggio è il timing operativo cioè quando implemento questa strategia il secondo è la modalità con cui procedo all'acquisto il terzo passaggio è come gestisco la posizione una volta che ho comprato il certificato il quarto passaggio è quarto in ordine di descrizione ma non meno importante degli altri è come gestisco il rischio perché non tutti tutte le operazioni vanno nella direzione che noi ci auspichiamo e quindi la gestione del rischio è una parte integrante necessaria della strategia allora per quanto riguarda il timing cioè il momento in cui conviene selezionare il sottostante poi selezionare il certificato e procedere all'acquisto il mio consiglio è quello di comprare i certificati nelle fasi di debolezza del sottostante quindi i certificati conviene comprarli sulla debolezza del sottostante quindi quando il certificato ha un eccesso ribassista un ipervenduto una fase di correzione come quella che stiamo vivendo poi sui mercati in questo periodo ad esempio ecco che allora quella diventa un momento propizio per acquistare al contrario invece per vendere conviene aspettare la forza del sottostante quindi quando c'è un ipercomprato un eccesso rialzista un lungorelli rialzista ecco quelle sono le fasi propizie per liquidare prima della scadenza del certificato quindi primo il timing conviene comprarli sulla debolezza del sottostante e venderli sulla forza invece del sottostante per quanto riguarda l'acquisto io in genere compro direttamente sul book non è che stia a fare spesso e volentieri per quanto riguarda i certificati di capitale condizionatamente protetto il fenomeno mettendomi in acquisto sul book sperando di essere eseguito quando mi decido che devo comprare sul capitale condizionatamente protetto parlo vado direttamente a mercato se si lavora invece sul capitale protetto il discorso cambia invece vado alla ricerca di occasioni e mi metto in acquisto con calma e pazienza però per il condizionatamente protetto questo aspetto non ce l'ho piuttosto è importante valutare se comprare in un colpo solo l'intera posizione quindi devo comprare 10.000 euro di un certificato cosa faccio? compro tutto l'intero importo in un'unica soluzione quindi investo subito di botto i 10.000 euro oppure li vado a frazionare ad esempio in due parti dentro con una prima 5.000 e poi con ulteriori 5.000 qui non c'è una regola generale il concetto dipende da operazione operazione il concetto importante però non dimenticatevelo che anche con i certificati potete frazionare gli ingressi soprattutto se lavorate sui certificati che hanno magari scadenze lunghe ad esempio un certificato con scadenze 2022 che è una scadenza che è abbastanza lontana rispetto ad oggi che siamo nel fine 2019 ecco che può essere frazionato cioè secondo me si può entrare con una porzione di posizione oggi e poi magari in un secondo momento fra qualche mese oppure fra un anno in un contesto di debolezza del mercato si potrebbe eventualmente incrementare la posizione dopodiché è importante anche analizzare la gestione della posizione quindi una volta che ho comprato come faccio a gestire la posizione allora qui secondo me occorre andare a distinguere una serie di situazioni allora se stiamo lavorando con dei certificati cash collect quindi quelli che pagano un interesse periodico ecco la linea guida secondo me da seguire è quella di cercare di portare a scadenza cosa vuol dire? vuol dire che visto che sono prodotti che periodicamente pagano una cedola ovviamente dopo l'acquisto se tutto va come deve andare e quindi il sottostante non sta scendendo non dà segnali di pericolo ecco noi abbiamo tutto l'interesse a mantenere la posizione e incassare nel corso del tempo le cedole le uniche eccezioni a questo aspetto quali sono? beh la prima che il sottostante vada male e quindi a questo punto vediamo dopo come comportarci quindi la casistica negativa dell'andamento del sottostante oppure semplicemente se troviamo un cambio di cavallo che ci permette di migliorare il rendimento della nostra posizione immaginate di aver comprato un certificato a 100 in emissione di aver incassato magari le prime tre cedole incondizionate e dopo dalla quarta cedola il certificato diventerebbe a cedole condizionate cioè la cedola viene pagata solo se il sottostante è superiore a un determinato livello di prezzi potrebbe accadere che mentre vi siete quindi nella fine delle cedole incondizionate all'inizio di quelle condizionate voi vi accorgete che è stato emesso un nuovo certificato che ha caratteristiche simili quindi lo stesso sottostante e un livello di barriera simile addirittura magari anche inferiore che magari se voi lo comprate oggi vi garantisce altre cedole incondizionate quindi a quel punto potete fare il cambio cavallo vendete prima dalla scadenza quel certificato che avete in portafoglio per comprarne un altro con caratteristiche simili ma con qualche punto di forza in più se invece lavorate con la tipologia bonus che è l'obiettivo di questo webinar beh anche qui in realtà sicuramente potete puntare a portare a scadenza però attenzione soprattutto se la scadenza è lontana 2020 2021 2022 o cose di questo tipo nulla vieta che in corso d'opera quando vi accorgetti di aver maturato buona parte del profitto di liquidarlo in anticipo cioè la logica io lo compro a 100 e il bonus è a 108 ma magari fra un anno e il prezzo di mercato è già 105 106 beh io il grosso del guadagno l'ho già fatto magari in poche settimane in pochi mesi dovrei mantenere un anno sperando che non si verifichi l'evento barriera per portare a casa altri due punti percentuali beh molto probabilmente mi conviene vendere monetizzare il guadagno e stare alla finestra se il sottostante scenderà magari sarà utile ricomprare quel certificato altrimenti ne cercherò uno simile che magari è stato emesso in tempi più recenti che mi permette di avere un maggiore rendimento quindi lato bonus privilegierei una gestione più dinamica rispetto ai cash collet però molto importante per la gestione è anche capire l'andamento del sottostante se l'andamento è positivo cioè in linea con le aspettative beh non è obbligatorio intervenire se io ho comprato un bonus che per sottostante sale non è un problema se io ho comprato un certificato rialzista e il sottostante comincia a scendere quindi siamo in uno scenario negativo diverso da quello che avevamo ipotizzato ecco che invece il discorso cambia a questo punto entriamo nel discorso di come gestiamo la posizione quindi entriamo nell'ultimo aspetto se le cose non vanno bene cosa possiamo fare beh innanzitutto cosa sconosciuta all'investitore non dimentichiamoci lo stop loss cioè il chiudere la posizione anche se è negativo cioè se presupponiamo che possa peggiorare la situazione nulla vieta chiudere la posizione incassare ovviamente una perdita restare a bordo campo per vedere come si delinea la posizione se il titolo andrà barriera andrà peggio l'abbiamo lasciata al suo destino abbiamo perso ma abbiamo limitato la perdita se invece è stato un falso segnale il titolo si riprende nulla vieta di poter ricomprare il certificato quindi primo non dimentichiamoci che è possibile adottare un approccio di stop loss anche sul discorso certificati qualcuno dice che il fatto che hanno la barriera il concetto di stop loss perde un pa in parte almeno di significato è vero però è vero fino in parte nel senso che poi se si verifica l'evento barriera il certificato in genere è una buona penalizzazione per cui è vero la barriera è un cuscinetto però secondo me bisogna trovare una quadra con il discorso stop ma nei prossimi webinar quando entreremo ancora più nei dettagli vedremo anche questo aspetto l'alternativa di non applicare lo stop loss qual è? beh quella di pregare quindi mantengo la posizione sperando che non vada barriera ma purtroppo sui mercati finanziari pregare e sperare non è una soluzione se Dio esiste ha sicuramente di meglio da fare piuttosto che tutelare le nostre posizioni sugli investimenti e sul trading quindi sperare non è la soluzione migliore piuttosto conviene valutare di coprirsi dal rischio quindi possiamo lavorare con le opzioni ad esempio vendendo delle opzioni call per abbassare il nostro prezzo di carico cose di questo tipo oppure possiamo andare a shortare il titolo sottostante io ho comprato il certificato con sottostante ENI e mi aspetto che ENI resti stabile o che salga se invece vedo che ENI è debole cosa posso fare? posso mantenere il certificato ma contemporaneamente andare a shortare il titolo ENI sottostante in questo modo il ribasso del certificato viene compensato dal guadagno invece con l'operazione short quando poi il titolo ENI si stabilizza nuovamente vado a chiudere la posizione short e quindi ritorno investito solo sul certificato ecco questo è un approccio molto semplice che si può sicuramente utilizzare come copertura l'ho definito molto semplice in realtà non è proprio così semplice per due motivi prima per determinare la copertura bisogna ragionare sul multiplo che è quel concetto che abbiamo visto prima e lo torneremo a prendere in mano quando andremo ad approfondire questi temi ma finché lavoriamo su un solo sottostante la copertura è semplice quando abbiamo tre, quattro, cinque sottostanti la copertura di un certificato diventa operazione abbastanza complessa comunque questo è il discorso allora in ultimo e poi ho concluso per questo primo webinar ripeto ce ne saranno degli altri successivi molto più approfonditi rispetto a questo non dimenticatevi mai il concetto di diversificazione quindi anche un portafoglio di certificati deve essere diversificato quindi diversificare per emittente per sottostante per mercato per settore per struttura cedolare per scadenza l'errore classico che si tende a fare in parte negli anni l'ho fatto anch'io io qualche tempo fa mi sono accorto che il mio portafoglio di certificati era composto solo da indici Fuzzi o Eurostox Eni poi cosa avevo avevo Telecom insomma il grosso diciamo così del portafoglio era studiato su una serie di sottostanti che erano quelli che preferivo quando mi sono accorto di questa situazione mi sono subito drizzate le antenne e sono andato a porvi rimedio quindi ho cominciato a diversificare su altri sottostanti eccetera il motivo qual è è che se noi abbiamo un portafoglio solo composto abbiamo 5 certificati tutti su Eni e su Eni va giù e va a barriera anzi vi faccio l'esempio su Telecom perché è capitato a me proprio l'anno scorso e non so se vi ricordate l'anno scorso quando il titolo Telecom scendeva che era un piacere io avevo 3 certificati in portafoglio con sottostante Telecom e 2 sono andati a barriera 1 no per fortuna quello era un esempio potevo eventualmente diversificare maggiormente e comprare 1 in meno quindi a volte si predica bene e si razzola male però il discorso è quello se avete il portafoglio sbilanciato sull'emittente se quell'emittente va bene siete bravi siete i primi della classe avete guadagnato tanto ma se quell'emittente va a barriera siete gli ultimi della classe il confine tra il primo della classe e l'ultimo dei sommari a volte è molto sottile come è capitato a me nel caso di Telecom di prima quindi attenzione però perché la diversificazione è sempre opportuna da questo punto di vista ok io direi di avere concluso la mia presentazione quello che volevo trasmettere oggi do appuntamento a tutti ovviamente nei prossimi webinar adesso cedo la parola a Francesca per 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 quello che deve completare grazie mille Gabriele veramente un webinar molto molto interessante uno dei pochi webinar in cui veramente non intervengo praticamente voglio solo aggiungere diciamo lato Funtobel i servizi che abbiamo dedicato per i nostri clienti abbiamo una serie di newsletter dove dopo l'iscrizione ricevete anche una serie di focus e approfondimenti non solo sui certificati ma anche soprattutto sui sull'andamento dei mercati abbiamo il focus del consulente che è diciamo la newsletter dedicata ai mega trend di investimento l'idea di investimento è la weekly note che invece sono un aggiornamento sui mercati e investi.v investi.v in onda dove ci sono in realtà tutti i nostri webinar passano attraverso investi.v anche questo webinar è passato nella newsletter investi.v quindi per tutti i webinar vi consiglio comunque di scrivervi alla nostra newsletter investi.v in onda c'è un ulteriore vantaggio nel caso in cui si negoziassero i certificati covered warrant Funtobel perché con tre partner Bink Direkta e Wubank si azzerrano le commissioni di negoziazione a partire da 1500 euro negoziati in acquisto in vendita con Bink e Direkta su singolo Ifin a partire da 2000 euro solo in acquisto con Ibu Bank quindi questo è importante anche per ridurre il proprio costo quando si trada su questa tipologia di certificati inoltre questo webinar faceva parte di un percorso educational che abbiamo lanciato in occasione dell'ITCAP l'ITCAP o Investment and Trading Cap è la competizione di trading con denaro reale più famosa e riconosciuta in Italia da cui molti trader famosi sono nati l'abbiamo lanciata già un'edizione che era appunto l'ITCAP primaverile con premiazione all'IT Forum di Rimini questa seconda competizione che è partita il 23 settembre di cui abbiamo avuto già la prima classifica sul sito ITCAP quindi www.itcoup.it in realtà è partita ma sono ancora aperte le iscrizioni quindi per chi volesse iscriversi può partecipare a una competizione di trading con denaro reale dove si deve fare un deposito minimo di almeno 2000 euro si calcolano le performance al netto delle commissioni di negoziazione ovviamente come dicevamo ci sono commissioni di negoziazione azzerate con i tre partner che vi permettono di partecipare all'ITCAP BINC di Milano l'IT Forum Winter il 27 novembre 2019 tutto il percorso educational lo trovate sul nostro sito nella sezione dedicata ITCAP è molto semplice andate in prossimi webinar ed eventi e trovate tutta la lista di webinar ed eventi questo era uno diciamo dei webinar del gruppo ovviamente ne sono previsti molti altri tra cui anche delle conferenze e vorrei citare uno degli appuntamenti che è proprio la conferenza che faremo al trading online expo in borsa italiana con Gabriele mercoledì 23 dalle 11 ore 12 in sala gialla per qualsiasi domanda ovviamente trovate sempre tutti i nostri contatti sul nostro sito web nell'area contatti abbiamo sia il numero verde dall'Italia se siete all'estero o anche il numero internazionale in ogni caso ci potete contattare sia per problemi o dubbi o qualsiasi domanda abbiate sui certificati in generale ma anche sui certificati fontobel sulla negoziabilità e anche per eventuali idee di investimento noi siamo in contatto diretto con i nostri clienti molti nostri clienti ci chiedono l'ampliamento magari di qualche sottostante ci chiedono magari una struttura in particolare in ogni caso noi prendiamo in carico la richiesta da parte del cliente quindi per ogni idea ci potete contattare sia al numero verde che alla mail certificati su piacioda.com io Gabriele ti ringrazio ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato distribuiremo le slide a tutti i partecipanti e auguro una buona giornata e un buon trading a tutti grazie mille anche da parte mia grazie a tutti grazie Francesca e ci aggiorniamo al tole per i prossimi webinar buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti